Ma è solo le fasi iniziali, dopo 8 minuti mi pare di rimanere in 10, non è facile portare a casa la partita, anzi devo dire che abbiamo avuto più occasioni noi fino all'84esimo perché abbiamo avuto due palle e goli importanti, la squadra poi atteneva bene il campo, ha palleggiato anche bene, negli ultimi minuti abbiamo un po' sbragato, lì non doveva succedere questo. Ma l'inizio è un po' titubante, forse l'indecisione tra uno e l'altro, due ammunizioni subito, anche lì a noi è ammunito subito, loro non gli ammunivano mai, sul rigore è discutibile perché vorrei rivederlo anche quello, insomma è andata, ci è girato tutto all'incontrario, nel senso che non è andata una dritta da questo punto di vista, perciò sono molto rammaricato perché la squadra secondo me ha dato tutto quello che poteva, a dare, anzi nel secondo tempo mi ha fatto anche bene, purtroppo abbiamo perso però bisogna essere per volta al pagina e andare avanti, perciò alla prossima. Billon, questa squadra che però subisce sempre gol per prima, era caduto a Palermo, avevate recuperato, era caduto con il doppio svantaggio col Bari, è successo anche oggi, perché all'inizio, soprattutto nei primi minuti, questa squadra non riesce ad essere così concentrata come dovrebbe? Non so se l'ansia della partita, se un po' timorosa, perché sta di fatto che le partenze sono sempre un po' sofferte, perciò dovremmo analizzare anche questo, vedere come mai succedono queste cose qui, è chiaro che giocare una partita 11 contro 10 per tutta la partita, perché per 8 minuti non è semplice, abbiamo anche una grande dispersione di energie nervose e fisiche. Ha tirato un po' le orecchie, mi scusi, a Crescenzi, perché da un giocatore della sua esperienza non ci si aspetterebbe questo comportamento, cioè due falli in 10 minuti? Ma io dopo la partita non parlo mai con i giocatori, perché magari quando si è caldi preferisco parlare il giorno dopo, perciò non gli ho detto niente oggi, ma avremo modo di parlare insieme nei prossimi giorni. Nel secondo tempo, nonostante l'inferiorità, avete preso anche un po' in mano la situazione, poi Raicevic, doppio attaccante centrale, la Provercelli ha cercato anche di gettare la palla in area di rigore, lì la forza fisica si è fatta sentire della Provercelli, ha ritrovato nuove energie, d'accordo? Sì, è vero, forse noi ci siamo abbassati un po' troppo, ma era l'84esimo, eravamo anche un po' stanchi perché abbiamo costruito tutta la partita, non riusciamo più ad alzarci e lì abbiamo beccato il gol. L'amarezza di questa sconfitta, mister, è attenuata, se così possiamo dire, dai risultati delle dirette concorrenti, perché nonostante questo KO il Pescara è ancora fuori dalla zona play-out, però da domenica prossima bisognerà tornare a far punti e possibilmente a vincere. Tutte le partite sono difficili, non bisogna guardare quello che fanno gli altri, ma quello che facciamo noi, noi dobbiamo arrivare a 48-49 punti e quello è l'obiettivo che dobbiamo fare. Oggi ha mandato in campo dal primo minuto sia Mascin che Falco perché li aveva visti molto bene in settimana, già la scorsa settimana aveva parlato di dubbi o direi che hanno risposto molto bene, d'accordo? Sì, sì, hanno fatto tutti e due un'ottima partita, quello che avevo visto nell'amento può essere verificato che stavano molto bene e erano in condizione. Qualche errore di troppo oggi in difesa, sempre antipatico parlare dei singoli, lo dicevamo prima, però in mezzo all'area di rigore qualcosa non è andato, anche un'occasione mi è sembrato del secondo gol della Provercelli. Sì, sono cose che dobbiamo analizzare, è veramente fredda, come mai succedono, è già il secondo, anche sabato scorso abbiamo preso gol su un cross, dobbiamo stare molto attenti e sentire l'uomo quando si è dentro l'aria. Qui siamo mancati, probabilmente se passavamo qui due o tre minuti portavamo a casa il risultato, così non è stato ma bisogna guardare avanti. Io le chiedo un'ultima cosa da parte mia, la partita di Palermo, la partita di oggi, se la andiamo a guardare un po' a specchio, io a Palermo avevo visto un Pescara forse anche mentalmente più dentro la partita, perché io voglio ancora sottolineare questo approccio dove la Provercelli vi ha messo in difficoltà. Sì, sono partiti a razza, lo sapevamo, dovevamo essere più convinti, più determinati, abbiamo sofferto i primi 6-7-8 minuti, poi l'espulsione ha aggravato ancora di più questa situazione. Un peccato perché la squadra ha giocato la sua partita, ha fatto quello che doveva fare, alla fine forse non dovevamo sbragar meno, nel senso che dovevamo essere più compatti per stare dentro la partita fino alla fine. Sette gare al termine, Pillon, domenica c'è lo Spezia allo Stadio Adriatico, poi tutti i scontri diretti, eccezione fatta per l'ultima gara di Venezia. È preoccupato un po' per il fatto che la sua squadra non ha nelle corde proprio quella caratteristica di lottare come squadre come per esempio Ascoli e Cesena, che forse sono più abituati a navigare nelle zone basse della classifica? Ma non direi che oggi abbiamo lottato, l'abbiamo lottato fino alla fine, questo non posso dire niente ai giocatori, sul piano nervoso la squadra ha reagito bene in queste partite. Mentalmente forse il Pescara è meno preparato di altre squadre? Ma dobbiamo abituarci, siamo lì e dobbiamo tirarci fuori, perciò non dobbiamo essere preoccupati di niente perché preoccupazioni ce la chi va in ospedale, non noi. L'ultima da parte mia, se ci può dire come sta coda? Ecco, la vediamo in settimana se riusciamo a recuperarlo bene. Grazie al tecnico del Pescara.